Sono giorni di Pitti e si ripropone il discorso su quanto il turismo congressuale dei grandi eventi possa pesare per Firenze. Ne parliamo con Stefano Gabrielli, che è referente della Commissione di Confindustria proprio per il turismo congressuale e grandi eventi. Allora, qual è lo stato di salute del settore e cosa si può fare per migliorare? Beh, allora, dunque, vedendo Pitti, lo stato di salute sembra sia ottimo. In realtà non è così, perché Pitti è una manifestazione che sicuramente cresce, cerca di fare il suo meglio, ma è ospitata in una struttura che è ormai vecchia, una struttura che ha bisogno di tanti interventi e ha una città che ha bisogno di avere un aeroporto all'altezza e le infrastrutture adeguate. Quindi infrastrutture che si parli di sedi congressuali sia che si parli di mezzi di trasporto per arrivare in città? Sicuramente. Un problema che, a quanto leggo dai giornali, ci sarà sicuramente, sarà quello del passaggio della tramvia proprio davanti alla fortezza. Ora, se noi vediamo il traffico che c'è durante il Pitti a oggi nella zona della fortezza, possiamo immaginare, quando dovranno far passare i binari davanti, come faranno tutti i camion, tutti i tir, tutti gli allestitori ad entrare alla fortezza. Io questa è ancora una cosa che non ho capito, ma nessuno ci ha chiesto un consiglio ad oggi. Qual è lo stato di salute del turismo congressuale a Firenze? Allora, il turismo congressuale è un grande mercato per Firenze, però purtroppo stiamo perdendo delle posizioni. Stiamo perdendo delle posizioni non solo rispetto ad altre città nel mondo europee, ma anche a città italiane. Grazie a tutti.